Credo che proprio per questo mi sento di farvi chiusura prima di premiare l'associazione che sia importante in questo periodo l'alternazione fermassima di non riflettere, pensare quello che serve sempre e credo che sia un'alternativa più importante se non l'avete fatto farvi pubblicare un bello è un regalo che va a proprio favore di tutti i ragazzi, è una cosa che ci soddisfa non è un regalo che ci soddisfa